Strategia finanziaria, il premio ce l'ha il dottor Rochetta, la motivazione ce la legge nostro buon Giorgio. Premiato dai giurati per l'imponente riorganizzazione delle risorse e dei processi, tra i risultati una maggiore efficienza e qualità della reportistica e linee di firma e di factoring per 800 milioni di euro. Bene, dottor Marchio, cosa riconosce questo premio o cosa premia questo riconoscimento? Decida lei. Premio è un anno di grande difficoltà, di tensione finanziaria, quindi di risposta a volatilità e difficoltà. L'anno del Covid è stato un anno molto particolare, molto teso, quindi resilienza, resistenza e protezione degli asset aziendali. Ha parlato per parole chiave, molto efficace. La ringraziamo, congratulazioni a lei e a chi la supporta nel suo lavoro. Grazie a tutti.